Una parola che si ripete tanto è insicurezza, ma la vera parola è guerra. Il mondo è in guerra a pezzi. Questa è guerra. C'era quella del 1914 con i suoi metodi, poi quella del 1939-1945, l'altra grande guerra nel mondo. Adesso è questa. Non è tanto organica, forse. Organizzata sì, ma organica, dico. Ma è guerra. Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra. Perché ha perso la pace. Quando io parlo di guerra, parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione. No, c'è guerra di interessi. C'è guerra per i soldi. C'è guerra per le risorse della natura. C'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Qualcuno può pensare che sta parlando di guerra di religione. No. Tutte le religioni vogliamo la pace. La guerra la vogliono gli altri. Capito?